Viaggia. Quando puoi, viaggia. Parti per nuovi luoghi, vive avventure, assapora l'emozione della scoperta. Guarda albe e tramonti da spiagge sconosciute, da montagne innevate, da balconi antichi dove la storia legge. Assaggia nuovi sapori, osserva modi di vivere che nemmeno immaginavi, arricchisci la tua mente ampliandola su nuove realtà. Porta la tua esperienza alle persone che incontri e nel contempo impara da loro. Cammina su strade asfaltate, sterrate, polverose, prati pieni di fiori, spiagge sabbiose e quelle piene di sassi. Salta nelle pozzanghere, lascia le tue impronte sulla neve. Ascolta la cadenza delle parole pronunciate, i canti e i suoni che tipici caratterizzano il posto in cui sei. Annusa l'aria, respira i profumi, le spezie che ti ricorderanno per sempre ciò che i tuoi occhi stanno vedendo. Fai tesoro di ogni viaggio e quando non puoi spostarti, non rammaricarti. Prendi un libro, quello è il tuo biglietto. Aprilo, quello è il tuo mezzo di trasporto. Inizia a leggere, osserva con la mente i nuovi orizzonti e assapora il viaggio. Grazie. Grazie.